Bentornati amici di GTA 4, pronti per una nuova missione! Antony! Cosa di Antony? Si è portato un cordone! Questo è un problema. Il mio corpo personal è portato un cordone! Ho portato questo bambino come era il mio mio! Lo lo soffi come era il mio mio figlio! Quando mio figlio è morto, Antony è stato portato mio figlio! Ora questo, il mondo è un c***o! Where è Antony? Lo soffi che sta portando un cordone! Quindi mi freddo! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi! Dopo che è stato portato stati, ovviamente! Cioè... Cosa c***o! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi! Lo soffi che è stato portato qui le ho! Cosa sembra che avresti l'accazione dal corpo! Quando, avresti un sensore la madre sul telefono... Cosa sono pensi che il problema è solvede! Il morirà in fronte della meia! Ma il c***o aveva avuto... E ora sta nel hospital di antagascore sotto la motore! Ok, ok! È di sicuro che ti ha sotto il belicoloso fordante! Lo soffi... Credi che farai questo per me! Quindi ti voglio che parlare con lui? I want you to whack them, and after that, I want you to kill all the other rats I surround myself with. Ok, ok, don't worry. Ok, don't worry. Excuse me? No! Non l'ho preso io! No, dai, aspetta. Non ho le armi. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Allora, qui a destra. Ero già qua o no? Eh sì. Dai, vai di là. No, vai indietro, vai indietro. No, devi prendere il vestito da dottore. Eh, tu sai dove eh? Sì, da qualche parte qua. Prova di qui. Lì. Adesso ti fanno entrare. Non passava le mani. Non passava le mani. T'ha visto, poi sei ritornato con il vestito, ma nella faccia t'ha visto. Ah, dici che è quello? Sì, vai di qua. Vado via? Qui? Sì, in qua, sinistra. Questo? Sì, è tu? No. Scusate. 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 Ah, dici, Nico. Sei qui per vedere il boss? È solo questo. Scusate, non è il boss in giro? Ah, per cosa sei qui? Ah, dici. Non ho mai avuto la scuola. Ah, devi andare dal macchinario a staccare. Ah, non sparare? Cioè, ma ti giri di lì? Oh, sembra che l'ho messo una cosa. Scusate di questo Anthony. Non ho avuto tempo. Adesso puoi andare. No, esci velocemente. Vabbè, corri, corri, corri. Non dovevo correre. No, non dovevi, però vai. Dove cazzo vai? Cazzo ne sai. Aspettatemi. No, lo devo rifare. E ti dice esci velocemente! Eh, la vita! Va bene dai, sei uscito, fa niente, fa niente. Esci velocemente, mi dice. Eh, infatti. Ok. Ok. Missione completata, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a io! Si, non vediamo alla prossima. Si, non vediamo alla prossima. O altro che non conosco! F***i feds! Torni tutti inizierati! Ciao a tutti, Nico!